l'atleta ucraina appena 15 anni precisa in questa entrata con il flick che arriva a contatto con la trave ribaltata salto avanti ancora una ribaltata senza posa delle mani a seguire la ruota sempre senza la posa delle mani sulla trave non c'è molta continuità nel suo esercizio Carmine si è un po' titubante in qualche elemento ginnico Angembè con cambio ad anello bisogna cercare di stare a contatto con il piede che va indietro con la nuca e poi doppia vita mente in mezzo dal salto indietro teso non è un punteggio è un po' titubante anche in mezzo 눈팍 sono già molto più